Viene presentata oggi questa edizione, insomma, della seconda edizione del Festival Musanima ma principalmente si presentano due concerti che si svolgeranno il 10 maggio e il 17 maggio Start 1 e Start 2. Di cosa si tratta? Questa è una grande occasione, un grande festival che mette, diciamo, in rete formazione, produzione e distribuzione. Cosa significa? La formazione per eccellenza è sempre stata data ai conservatori italiani e a Teramo c'è un conservatorio che è un'eccellenza. E la produzione sinfonica in Abruzzo, diciamo, la peculiarità è dell'istituzione sinfonica abruzzese, cioè della nostra orchestra regionale abruzzese, e poi metterla in rete, cioè creare questa sinergia, cioè tutti gli allievi dei conservatori abruzzesi e non solo, perché questo festival si estenderà a Frosinone, Latina e Fermo, dare la possibilità loro di scrivere dei pezzi di musica contemporanea e avere uno strumento, lo strumento, l'orchestra che glieli esegue, vivere le prove, capire per cosa si sta scrivendo, per chi si sta scrivendo, per cui vedere nascere il prodotto dove loro hanno lavorato magari per un anno o per due anni. E questa è una cosa fondamentale di stimolo per loro, di grande stimolo, perché bisogna dare delle occasioni vere per costruire qualcosa. La caratteristica di questo secondo festival di musica contemporanea Musanima è quello appunto di dare soprattutto un'occasione agli allievi anche di comporre propria musica e di vederla poi eseguita da una vera e propria orchestra. Questo penso sia uno degli aspetti salienti di questo festival. Non c'è dubbio, lei ha colto perfettamente nel segno. Oggi è sempre più difficile, non soltanto per i giovani editori, e anche per i giovani che escono dalle classi di direzione dell'orchestra, di avere un confronto diretto con dei professionisti della musica, cioè con un'orchestra vera. E' questo che noi offriamo all'orchestra sinfonica abruzzese, un'orchestra regionale, serve la regione e non solo, perché quest'anno raddoppiamo, non soltanto serviamo i conservatori della regione, ma anche di fuori regione. Quindi è un messaggio anche di speranza per i nostri giovani compositori e per i giovani musicisti della nostra regione e non solo. Anche se spesso ci scontriamo con una burocrazia stupida e bucefala che frena anche quelle che potrebbe essere un pil crescente per la cultura, per l'investimento culturale. E a questo proposito mi ha dato appunto un assist. Quanto è importante anche in questi contesti, insomma, di questi tempi che non sono poi così illuminati, anche appunto la musica come mezzo anche di formazione, non solo artistica, ma anche appunto umana in questo caso. Non c'è dubbio, è uno strumento anche di socializzazione. Io faccio l'esempio dell'Aquila, ma anche di Teramo. Noi abbiamo subito dei terremoti, noi più devastanti sicuramente quello di Teramo e della zona del Terramano, ma la musica è diventata anche a volte un pretesto, un collante sociale per ritrovarsi uno a fianco all'altro, per confrontarsi e per poter anche commentare un brano musicale e quindi è anche un cemento dell'anima la musica.